Ciao Irelia come stai? Io vengo dal Piemonte Casale Monferrato provincia d'Alessandria Abitavano a Roma ma mia mamma aspettava a me che era prima di Natale Mio padre ha detto andiamo dai miei genitori in Piemonte Lei ha detto non posso venire perché verso gennaio nasce il figlio E lui ha detto di qua gennaio c'è tempo andiamo là E così alla fine dell'anno sono nata lì Due settimane siamo ritornati a casa E così io ho la pronuncia proprio romana perché certo ho vissuto Roma sempre E poi da lì siamo andati ad abitare a Ostia, lì da Roma Sono venuta nel 78 a abitare qui perciò nel 78 fai i conti su 37 anni Prima avevo gli amici e allora andavo dai miei amici O loro venivano qui giochevamo alle carte Ma adesso sono tutti morti Ci sono rimasta io, un'altra mia amica Gabby D'Armelli e un'altra che ha perso la memoria Nella Nessolo ho lavorato a 10 anni, capo operetta della macchina del caffè Se non c'avevo la macchina non potevo prendere lavoro perché era di notte Era dalle tre e mezza a mezzanotte E se non c'erano qui era tutto buio, non c'erano neanche le luci per la strada Ce ne erano due o tre, non c'erano ristoranti, non c'erano delicatesse Non c'era niente, la spesa l'andavo a fare a fai doc Dici sì, mi piace la veduta che ho C'è la veduta qui, che bella Ok Grazie 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 Grazie